La mostra internazionale di San Remo e sono di collezionisti privati dell'ereditaria quindi le opere che vede, che vanno dall'editoria di lusso al quadro, alla scultura, alla numismatica sono opere di collezioni private di nostri collezionisti e in più abbiamo realizzato una mostra per artisti con i quali collaboriamo parliamo di Domenico Villano, Capozzi e Lucio Oliveri Filo Conduttore, diciamo noi ci occupiamo di investimenti in opere d'arte e anche di quello che è il disinvestimento da un po' di anni queste mostre sono dedicate ai nostri collezionisti proprio per stimare, storicizzare le proprie opere e perché no eventualmente disinvestirle Grazie a tutti!